ben ritrovati e quello che vediamo qui ovviamente stiamo parlando di real flow e in realtà iniziamo subito con udini questo non è un corso diciamo non è un errore del corso ma mi serve fare vedere come poter esportare quindi e importare all'interno di real flow alcuni elementi e di come io comunque abbia in questo caso utilizzo udini per modellare diverse geometrie all'interno infatti di udini qui abbiamo questa geometria qua che sarà il nostro letto del fiume che andremo a ricreare ok quindi qui andremo a creare una sorta di cascata per poi creare anche un inizial state potremo anche creare già direttamente una geometria base per andare a riempire il nostro letto del nostro possibile fiume però questo magari lo voglio affrontare come un esempio ancora più semplice potrebbe essere di interesse magari più comune solitamente comunque quando si vanno a creare delle simulazioni noi non abbiamo la possibilità di creare anche la geometria del dell'elemento che si va a simulare per esempio in questo caso me la sono creata io direttamente appunto in udini con una serie di nodi che mi permettono di andare a creare questa forma questa forma che poi anche tappata anche chiusa potrebbe essere benissimo un diorama allo stesso modo in questo file mi sono anche creato altre tipologie per esempio questa invece sarà quella che utilizzeremo per andare a creare la simulazione della spiaggia soltanto un piccolo un piccolo strato un piccolo una piccola parte non è che voglio andare a creare un intero sistema di spiaggia quindi un postiera molto grande e in più ho anche qui altre geometrie che saranno poi dopo le nostre rocce che poi andranno a collidere quindi andremo a ricreare di fatti poi se andiamo a vederlo tutto insieme se andiamo a vederlo tutto insieme questo poi sarà la nostra spiaggia mentre questo qui sarà l'esercizio di adesso su invece il nostro fiume che scorre con un letto di un fiume leggermente in discesa senza degli oggetti di collisione perché comunque non non sono di mio interesse adesso andare a mettere degli oggetti di collisione volendo li potremmo anche inserire poiché comunque li abbiamo anche già esportati io poi dopo da Udini li ho esportati in formato alembic e la cosa interessante è che Udini lavora nella stessa scala di RealFlow sembra anche una cosa strana che Udini è famoso anche per le sue simulazioni ha un comparto di liquidi potrebbe essere un concorrente di RealFlow diretto ma in realtà ci sono comunque delle collaborazioni uno potrebbe benissimo creare un liquido all'interno di RealFlow e poi dopo importarlo dentro Udini senza problemi a volte si possono anche andare a realizzare delle simulazioni del genere ad ogni modo io potrei anche esportarlo e come vi ho detto prima Udini lavora in metri e RealFlow lavora in metri quindi quando vado a fare l'esportazione non ho nessun tipo di problema se invece lavoriamo con altri software come per esempio Maya o 3dx max l'ideale sarebbe scalare quindi convertire il formato da centimetri per esempio a metri in 3dx max molto comodo è andare a creare un file nuovo e una volta che creo il file nuovo vado a convertire l'unità di misura in formati di metri e quindi quando vado a fare un merge magari della scena posso essere sicuro che quel merge mi viene fatto con l'unità di misura in metri da centimetri a metri lo stesso vale anche per Maya funziona allo stesso identico modo creo la scena in centimetri e poi dopo successivamente posso una volta che lo vado a mergiare quindi a importare dentro il file vado praticamente importarla in metri oppure posso scalarla andando a ridurre le dimensioni ad ogni modo una volta che io ho esportato tutte le geometrie che mi servono e vado a importarle all'interno di RealFlow con un classico import ho questo elemento questo elemento che è di circa 10 metri possiamo verificare andando a creare un box mettiamo qua di lato e se io lo vado a scalare per l'asse delle x vedo che ora non è proprio centrato al 100% però vedo che sono se io qui metto 10 è all'incirca 10 metri quindi vuol dire che ha mantenuto la stessa identica scala che avevamo anche all'interno di Udini o comunque del software che stiamo utilizzando per modellare una volta che mi sono andato a importare quindi a realizzare questo elemento a importarlo così posso iniziare subito andando a creare la simulazione del nostro fluido ovviamente la simulazione del nostro fluido avremo qui un emettitore o più di un emettitore che creerà quindi il fluido che scende quindi il mio fiume che con una piccola anche cascata se mi passate anche il termine e poi invece morirà qui di conseguenza io voglio andare a realizzare soltanto il liquido in questa parte quindi soltanto in quest'area e quindi sostanzialmente come se io andassi a creare un diorama e per creare questa parte qui per avere solo questa parte qui io ovviamente tra i demon andrò a creare un kill volume che sarà con un fit in base all'oggetto potremmo scegliere il nostro ABC Reader che sostanzialmente ABC è l'acronimo per l'Alembic magari lo possiamo anche alzare un po' perché logicamente lui me lo crea grande quanto l'intera mia scena ma io lo posso anche alzare lo posso anche un pochino scalare perché ovviamente qui io ho dello spazio in più ok scaliamolo un po' ovviamente io voglio che mettiamo a caso che io voglio soltanto la simulazione sia qua dentro ovviamente non andrò sopra il letto del fiume ok e questa sarà l'area di mio interesse per la realizzazione dell'effetto di cascata barra fiume ok 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 Grazie.